la casa dell'orco era nato come una serie di quattro tv movies per la televisione per la televisione commerciale italiana e quindi dove faceva parte di quei soggetti di quelle storie diciamo che per il cinema non avrei mai fatto esili troppo non importanti diciamo che però per la televisione avevano un certo genere di per me di sviluppo perché storie magari che ti piaceva raccontare ma meno violente con più 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 strette in un ambiente più 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 adatte forse al mezzo televisivo assolutamente no assolutamente no perché demoni era un film cinema aveva demoni è stato fatto il numero 1 il numero 2 è stato provato con dario argento come produttore a fare il numero 3 ma poi l'abbiamo abbandonato nel senso che il progetto era quello che poi fu la chiesa film che ha fatto michele soavi perché io comincia a fare proprio questi questi film qua e non non avevo in quel momento più forse neanche la voglia di fare un 3 un tempo e il tempo per farlo e quindi non fu mai fatto un demoni 3 assolutamente no forse c'è di comune che c'è il regista di demoni e uno degli scrittori che è d'artano sacchetti quindi questo forse qualche 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 e forse anche un'attrice perché mi sembra che virginia bryant fosse anche in demoni 2 se non sbaglio facesse una parte piccola sì perché sì perché ma anche a me piace molto è una delle mie caratteristiche mi piace molto girare già negli ambienti chiusi io mi trovo molto bene a me se mi trovo a girare in uno spazio aperto mi devo sempre comprimere in qualche cosa perché lo spazio chiuso mi crea più come cerco di creare angoscia e lo spettatore mi crea angoscia a me quindi quindi sono devo dire che la scelta del castello fu molto felice perché troviamo il castello è un castello vicino roma 80 km dove è un castello proprio di una famiglia patrizia dove penso sia stata la prima e l'ultima volta che hanno fatto girare un film quindi entrammo molto in punta dei piedi c'era dell'arredamento che poi spostammo poco o facciamo come ci piaceva a noi perché la casella da come si vede nel film è molto più grande come si vede come si vede nella realtà molti più ambienti a noi usiamo quelli che ci servivano però ecco diciamo che era pieno di roba accumulata in secoli di grande valore fu anche molto difficile spostare sposta quella cassa panca e non era così facile perché magari stava ferma in quel punto da 300 anni e se uno la spostava poteva causare qualche danno quindi però devo dire che in alcune cose la l'ambientazione di quel castello la verità di alcuni reperti la verità di alcune situazioni il modo stesso in cui sfruttammo la luce che in certi casi era anche la luce che c'era che arrivava perché un castello a picco su una montagna con uno strapiombo e devo dire che era abbastanza di atmosfera forse una delle cose più riuscite del film diciamo poi con l'ambientazione beh certo si intonello era l'architetto di quel film certo poi nel castello di massimi non l'ha disegnato lui insomma c'era da qualche secolo però insomma diciamo che che era abbastanza la scelta anche del giardino di quel giardino che sembra un labirinto il giardino sopra e diciamo ecco che era un film che andava creata molto l'atmosfera sia diciamo quello che poteva essere le angosce le paure le cose erano sempre molto fili molto sottili date più dalla situazione e da quello che si vedeva che da un reale pericolo perché l'orco alla fine non è una chimera più che si poi si vede si visualizza mi sembra adesso non mi ricordo più ma due o tre volte solo nel film e poi basta ma perché era un attore che mi che mi stava bene anche per la parte che doveva fare perché su in quel genere sia se non film fatto anche per la televisione italiana dove anche se girato in lingua inglese dovevo prendere degli attori italiani e diciamo che su quell'età è un po' sempre l'età diciamo il quarantenne è sempre stato un po' in italia ci sono a quei tempi non c'erano tanti attori quarantenni però insomma paolo è sempre adesso di un divo il quello di questo film l'orco è che per un modo per l'altro molti degli attori che ci sono sono diventati sia paolo manco è un attore è un divo di un di una telenovela diciamo di un di questi seriali che vanno per la televisione italiana è uno dei più importanti è uno degli attori protagonisti se non sbaglio il primo il secondo film di sabrina ferilli perché c'è quella che faceva che fa una piccola parte e poi diventata una delle più grandi attrici italiani in questo momento molto carina e molto simpatica oltre che bella e poi addirittura c'era anche l'altra ragazza se mi sembra che faceva la babysitter che anche lei penso che abbia fatto se abbia fatto qualche film importante come protagonista che era che quello era proprio il primo film in assoluto adesso non mi ricordo neanche il nome però quella che faceva la babysitter virgilia braia l'avevo già avuta era una ragazza che aveva che era stava qui a roma e e che avevo già usata su demoni 2 mi sembra e è una un'attrice abbastanza interessante perché aveva diciamo recepiva in un certo modo la attualità e la paura nello stesso modo quindi ti poteva dare con la sua faccia determinate sensazioni e poi anche molto brava perché c'è la sequenza subacquea dove lei si buè l'ha fatta tutta lei ma con con delle una ragazza che sa andare sott'acqua come poche quindi anche quello mi ha mi ha mi ha spinto a prenderla perché veramente ha fatto mi ricordo che in alcuni casi è stata per più di un minuto e mezzo sicuro in apnea per girare quelle scelte cosa che non neanche molti uomini non possono fare e questo non lo so dire però diciamo che forse tra il soprannaturale in un certo modo o quello che può sembrare vero e che non si sa mai se è vero non è vero è uno degli elementi che mi piace forse posso dire che è uno degli elementi principali che mi che mi piacerebbe con ossia fa parte forse del passato anche di mio padre o di mio nonno perché cercare una conoscenza un nesso su quello che è il soprannaturale sebbe un elemento costante di ricerca sia per esempio sarebbe sia ma rivasse in qualche modo un segno di mio padre che purtroppo è morto da tanti anni a me sarebbe una fonte di piacere perché sarebbe due cose un segno di mio padre un segno è un segno che c'è qualcosa di sovrannaturale perché un po sovrannaturale è quel poi sovrannaturale ci lega anche alla religione non non a caso no anche la religione sovrannaturale diciamo che il sovrannaturale di quello che noi chiamiamo spiritualistico o che ci lega forme che poi portano da un'altra parte verso la paura o verso delle pulsioni nascoste è un po quello che uno vorrebbe vorrebbe cercare di trovare o di scoprire o di saperne di più insomma ma se io parto dall'horror perché nei miei cromosomi c'è sicuramente molto horror però l'horror sconfina sempre nel quello che noi chiamiamo il giallo il misteri o il diciamo il film il film sui serial killer o cosa del genere quando vai a affrontare gli assassini i coltelli ecco diciamo che io a un certo punto della mia vita mi era un po scocciato di donne inseguite da qualcuno col coltello e cose del genere perché ne avevo fatte parecchie e allora ho scoperto ho cercato di fare il fantasy come i film che ho fatto per la televisione di cui fantaghiro ecco se devo dire ad oggi ad oggi quello che mi ha dato più soddisfazione sono proprio i fantasy perché i fantasy ho catturato un pubblico che è il pubblico dei bambini oltre che della famiglia avendo poi a quei tempi adesso è grande ma avendo a quei tempi un figlio molto piccolo mi ricordo che andavo a prendere mio figlio a scuola a sette anni e tutti i suoi amici o bambini che quando hanno capito chi ero che facevo questi film mi fa venivano con gli occhioni mi chiedevano faccene un altro faccene un altro quello devo dire una soddisfazione ben più grande e forse che magari a un festival dell'horror di ragazzi un po più grandi un po diciamo punk o cosa che ti dicono che ti guardano anche quello è bello devo dire ecco io per esempio in questo momento sto penso e spero anzi di riaffrontare un film horror horror come un po più moderno sia un po più psicologico di angosce di cose come come sono diciamo un po le in questo momento sono più richiesti ecco sto cercando e dovrei rifare entro quest'anno fare un film per il cinema grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti